Ciao famiglie! Oggi facciamo burattini di carta. Abbiamo bisogno di matita, forbice, colla, alcune forme, un po' di cartone e certamente dei colori, quello che abbiamo a casa e creiamo delle forme. Sì, un coniglio! Guardate, un elefante, una farfalla e tantissimi animali per usare le dita della mano. E qua abbiamo un porcellino. Guardate come possono giocare i bambini della casa con le dita e i burattini di carta, di stoffa, quello che voi avete a casa. Può essere anche più semplice. Guardate, con i rotolini della carta igienica. Sono simpaticissimi! Allora, buon divertimento a creare i burattini! Ha, 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 che bella!